WIND IT UP, BABY! Freda di scocchiare un po', due secondi RIFACCIAVOLO Ciao, sono Alessandro, terzo anno in Ingegneria Gestionale alla Liuc. Ho scelto la Liuc perché è la prima volta che l'ho vista, a me è subito piaciuta la struttura, l'ambiente, poi il fatto di abitarvi vicino, infatti io sono di busto, mi permette di vivere la vita universitaria a pieno. Allora, l'ingegneria gestionale l'ho scoperta in quarta e quinta superiore quando al liceo mi fecero fare degli stage appunto con gli ingegneri gestionali e lavorando fianco a fianco con loro il lavoro che facevano mi piacque subito. E una volta arrivato all'università, venendo i piani studi, i corsi che venivano proposti, le materie, mi parlavano subito interessanti e quindi decisi di fare ingegneria gestionale. Poi diciamo che l'ingegnere è sempre stato il mio sogno. Allora, l'esperienza Liuc io la sto vivendo praticamente a pieno perché soprattutto quando devo preparare qualche esame, io vengo qua la mattina presto quando aprono le aule e me ne vado la sera tardi, sette e mezza, otto, quando le aule chiudono. Quindi io praticamente sfrutto a pieno tutta la giornata, cosa che per esempio alcuni amici che ho che vanno a Milano non riescono a fare perché non hanno tutta questa disponibilità di tempo. Inoltre faccio anche il 150 orista in biblioteca ed è un'esperienza che oltre a permettermi di guadagnare anche qualcosa, permette anche ai ragazzi di vivere intensamente l'università proprio interno e di relazionarsi con molte, molte persone. Beh, una volta laureato ho spiegato innanzitutto di fare quello che ho studiato, quindi ingegneria gestionale, più che altro perché al mondo di oggi non sempre è facile fare quello che esattamente si vuole. Ciao, sono Elisabetta, studio ingegneria gestionale da Liuc e faccio il secondo anno. Ho scelto la Liuc perché ho avuto subito una buona impressione di questa università, infatti c'è una cura particolare sia la persona sia l'ambiente universitario. Il numero limitato di iscritti permette un rapporto in aula migliore, quindi una didattica migliore con i docenti. Mi sono iscritta a ingegneria gestionale perché mi piacciono gli argomenti di gente che si trattano e poi penso che la figura dell'ingegnere gestionale è molto ricercata sul mondo del lavoro ed è una figura che dà molteplici possibilità. Salendo molto bene questa esperienza, infatti ho trovato un bell'ambiente, dei docenti molto preparati e sempre disponibili, un gruppo di amici, poi dei servizi disposti dall'università molto efficienti che permettono una crescita personale e professionale. Proseguirò i miei studi con una laurea specialistica e dopo mi aspetterà il mondo del lavoro. Mi piacerebbe anche specializzarmi nel management ospedaliero e perché no rimanere qui in Liuc nell'ambito della ricerca o dell'insegnamento. Ciao, sono Gregorio, sono iscritto al secondo anno di ingegneria gestionale qui alla Liuc a Castellanza. La scelta è stata sicuramente difficile per la concorrenza del Politecnico di Milano, però ho preferito premiare la Liuc per gli ottimi rapporti che ha con le aziende, per il numero ridotto di alunni in aula che permette un ottimo dialogo sia tra alunni che con i professori. Mi sono iscritto a ingegneria gestionale perché penso che sia un ottimo compromesso sia con l'economia che ormai è fondamentale sul mondo del lavoro, sia col pragmatismo tipico dell'ingegneria. Quindi da avere delle ottime basi grazie all'economia, ma anche una mentalità ben strutturata, tipica dell'ingegneria. Sicuramente l'esperienza è positiva sia per gli ottimi rapporti che si sono riusciti a costruire all'interno del corso, sia con i docenti. L'ho tradotto molto positivi gli incontri che l'università ci propone con realtà esterne a quello del tipico mondo universitario, rendendo quindi questo periodo estremamente affascinante rispetto a una normale esperienza universitaria. Sicuramente penso di andare avanti negli studi, quindi con una laurea specialistica, sempre in ingegneria e sempre per agli UOC. Poi confido di avere un'esperienza lavorativa di uno o due anni, per poi effettuare un master o un MBA, possibilmente in Inghilterra o negli Stati Uniti. Sono venuta tre anni fa per fare un scambio di quattro mesi. Mi è piaciuto, perché ho scelto un po' esami diversi, ho cambiato pure facoltà, quindi dopo ho tornato, sono laureata, poi ho deciso, ma vabbè, perché non venire qua a fare la specialistica qua in Italia? Intanto il clima è bello, l'università mi piace, quindi sono tornata e adesso in pochi mesi spero di laurearmi qua in ingegneria.